Parliamo di Cremona e Cremona si sa, lo sapevi, è la patria del violino. Dal 1500 maestri liutai giungono nella città lombarda per aprire le loro botteghe e affinare la tecnica nel nome del personaggio più illustre, Antonio Stradivari. Allora qui a Cremona si può visitare il museo del violino e visitare questo museo è un po' come fare un viaggio nelle origini di questo magnifico strumento. Visitare il museo si può fare tenendo d'occhio anche tutte le attività che vengono organizzate attorno al museo e attorno al tema del violino, concorsi internazionali, mostre, fino al Memorial Day dedicato a Stradivari. Ma dai avere un violino di Stradivari. Certo, sì. Sarebbe bellissimo. Va bene, usciamo da Cremona e andiamo a Castel Ponzone. Allora, lì vicino è un, fra Mantova e Parma, no? Dovrebbe essere, sì sì, fra Mantova, non lo sai. No. È vicino a casa tua, poco lontano dal Po, ecco. Sì. Lì ci sono naturalmente varie cose, varie curiosità, si mangia bene, ma c'è fondamentalmente un museo del cordame. Cordame? Sì, venivano fatte le corde e c'è una cosa che tu dovresti riuscire a leggere bene. Sì. Un attrezzo in legno, il Masol. Masol? Il Masol, che serviva appunto, soprattutto i bambini lo facevano, per intrecciare le corde. Esatto, l'abbiamo visto fare, ti ricordi? Sì. Veramente. Le latomie. Eh, mamma mia. In Sicilia. Sì, sì, sì. E proprio questo lavoro, era un lavoro che veniva fatto lì, appunto a questo Castel Ponzone. Ma dai, mi devo informare. Ma sì, dai. Interessante, ci vado. Bellissimo, c'è anche il museo. E ti fanno anche vedere la dimostrazione. L'ho capito.